Adesso si cambia completamente genere e Giulio ci farà scoprire una cosa per me assolutamente nuova. Ciao a tutti, oggi vi parlerò, vorrei condivere con voi l'opportunità di apparire sui media italiani e internazionali perché io nella mia consulenza di digital marketing, io mi occupo da tanti anni anche del mercato russo ma ovviamente vogliamo tutti la pace, ma a parte ciò la mia curiosità mi ha portato a chiedermi ma come mai certe persone vengono intervistate e io no? E quindi ci sono delle motivazioni che riguardano il funzionamento delle press room e questa tecnica non è stata inventata da me ma da un guru americano e dopo vi farò vedere chi è e vi consiglio caldamente insomma di leggere il libro e di seguirlo. Allora, andare avanti e spingo, perfetto. Mi piace andare per strade trasversali, un po' di anni fa forse in Italia sono stato uno dei primi che su Reuters ha mandato un comunicato stampa in inglese e per 300 dollari ha fatto apparire questa cosa qua. E' chiaro che non cambia il tutto, però questo è accaduto e era un piccolo cliente per cui insomma mi piace spaziare un po' di qua e un po' di là. Ecco, tutto qua. Sì, lui è il guru quindi assolutamente io vi consiglio il marketing in real time e quant'altro ha pubblicato i suoi libri in venti lingue in tutto il mondo per cui ecco non è una magia assolutamente ecco. Il tutto parte dal funzionamento della notizia, come dicevamo e vi spiego qual è il punto, l'accennavo a alcuno di voi. Che succede? C'è un trending topic, un argomento nuovo che ancora è poco conosciuto sta nascendo o non è ancora conosciuto alle redazioni. In quel momento i giornalisti stanno cercando fonti informative. Se voi volete apparire in quel momento parlate di quei dati, commentate, date informazioni aggiuntive a riguardo e il giornalista è molto probabile che possa prendere in considerazione le vostre parole perché voi siete uno esperto, potete parlare voi o potete far parlare il vostro cliente. In quel momento il giornalista sta cercando ovviamente una voce in capitolo chiaramente dovete avere qualche cosa da dire e fornire informazioni aggiuntive in tal senso. Quindi ovviamente apparire sui media significa trasferire informazione in un certo senso quindi trovare clienti, avere maggiore risonanzia mediatica, media, aumentare la reputazione, marketing possibilità del marketing e anche ovviamente l'in-building. Io ho fatto tanti esperimenti in questi anni, non sono un esperto però ho ottenuto importanti risultati. Questo è un comune che io ho promosso e promuovo, è un piccolo comune. Che cosa è successo? Credo un anno o due anni fa Jennifer Lopez scrisse in qualche magazine internazionale che aveva il desiderio di vivere in un piccolo paesino italiano. Io ho chiesto al sindaco di poter invitare Jennifer Lopez. Ho mandato la richiesta, ovviamente nessuno mi avrebbe mai risposto, ho mandato il comunicato stampa alla RAI, la RAI ha scelto il nostro comunicato stampa e ha parlato di questo paese che si diceva pronto a ospitare Jennifer Lopez. Non so se è chiaro più o meno il funzionamento, ma questo è quello che è successo. E siamo andati in prima serata su RAI 1. Si può lavorare anche a livello internazionale, questo è un comunicato stampa in realtà a pagamento, però di fatto poi vi faccio vedere quale può essere uno strumento per apparire fra le news internazionali pur non essendo pubblicati necessariamente da un giornalista. Comunque alcune volte è importante essere presenti nella ricerca, anche se magari il giornalista del New York Times non può pubblicare la tua notizia per qualche motivo. Ho ottenuto diversi risultati, sempre su quest'onda. Ultimamente ci sono state tante apparizioni per il semplice fatto che occupandomi di Russia tristemente ho dovuto anche dare informazioni su quali e perché stavano oscurando alcuni siti in Russia. Dunque ovviamente ho captato la notizia, è un qualcosa che mi aspettavo e ho dato la mia risposta. Io per tanti anni ho avuto dei clienti nel settore del wedding, per fare un altro esempio. Quando si era sposato Belen immaginavo il caos mediatico e ci siamo infilati e ho fatto dire al designer il suo punto di vista sullo stile del designer, dell'abito di Belen, anche se non c'entravamo proprio niente. Quindi è importante trovare dei trend, Google Trend, in primis Twitter, immaginarli, prevederli, certe cose le sappiamo in anticipo, i trend di pantone, i trend del festival, di qualsiasi cosa. Quindi qualche cosa che nasce, informazioni aggiuntive, quindi fornire dati, percentuali, tutto ciò che avvalora quell'ipotesi o quell'idea e che informa sia il giornalista, quella redazione, quel taglio e quindi di conseguenza i lettori, gli ascoltatori, i telespettatori. Questo è il principio ovviamente, solo questo è quello che poi consente al giornalista di prendere in considerazione voi. Questo potrebbe essere un esempio di un template che potreste utilizzare per scrivere a una redazione e commentare e diventare voi un vostro, un esperti o per un vostro cliente fondamentalmente. Io per esempio qua ho visto su Google Trend, Shopify, se qualcuno avesse a che fare con l'e-commerce, per esempio potrebbe adesso, domani mattina, scrivere a una redazione che tratta questi temi e per esempio commentare il trend crescente, sempre crescente di Shopify. Per esempio, un caso su tutti. Bisogna individuare i giusti giornalisti. L'altro giorno, ieri, stavo su Twitter, per esempio questa è una giornalista di Financial Times, per esempio, ha messo un tweet e quindi è molto chiaro, se uno ha un account di questo tipo avete questo tipo di giornalista, questo tipo di opportunità. Questi sono i tool, gli strumenti che potete utilizzare per monitorare i trend e quant'altro. Questo è un altro strumento molto utile in inglese, in lingua inglese, e quindi anche l'opportunità appunto di trovare i giusti giornalisti, che siano della BBC, di Reuters, in qualsiasi argomento. Quindi dialogate con loro. E questo è un sito che, se non altro, se non riuscite intanto a dialogare intanto con i giornalisti, comunque vi consente quantomeno di apparire in lingua inglese in tutto il mondo. Spero che sia un po' chiaro e vi possa dare un po' d'aiuto.